benvenuti o bentornati sull'apprendista profumiere io sono emanuele e in questo canale parlo di profumeria se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video bene iniziamo a parlare della formula di oggi l'ho chiamata vanilla poison questa formula è sicuramente basata su una nota dominante sulla nota dominante della vaniglia però non dovete immaginare quella vaniglia dolce stucchevole banale che vi è capitato già di sentire in passato ho creato una formula abbastanza bilanciata con poche materie prime dove la vaniglia si è protagonista tuttavia da una percezione olfattiva narcotica asciutta quindi non rotonda non cremosa dolce il giusto con un tocco abbastanza speziato vediamo insieme la piramide e le materie prime scelte in testa abbiamo l'aldeide c12 mna il carbi il pepe rosa e il legno di rosa l'aldeide l'ho scelta perché aiuta a spingere in alto e ad amplificare le note floreali che in questo caso sono quelle del gelsomino e della rosa ma amplifica bene anche le note speziate quindi il pepe rosa il carbi ultimamente lo sto usando molto perché mi permette di sia smussare quelle note un po spigolose soprattutto quando si parla di agrumi quando si parla di note speziate quando si parla di piante aromatiche con quei tratti molto canforacei in questo caso io l'ho inserita perché rende meno cremosa la fragranza stessa quindi aiuta a togliere cremosità perché non volevo una vaniglia dolce avvolgente cremosa volevo una vaniglia come dire quasi tossica narcotica pungente poi abbiamo il pepe rosa il legno di rosa e qui è arancione perché il filo conduttore di questa formula è la nota legnosa c'è una nota legnosa che attraversa verticalmente tutta la piramide olfattiva che parte dal legno di rosa per poi proseguire col timbersilk il pro camille il paciuli e il vetiver sul fondo a parte questo motivo il legno di rosa è anche ricco di linalolo questo migliora tantissimo la proiezione e l'impatto della fragranza nel cuore troviamo la soda di gelsomino qui ho usato un gelsomino grandi florum quindi non è un gelsomino pulitissimo come il sunbac tuttavia non è neanche eccessivamente indolico io ho usato un gelsomino acquistato da atena dell'olfatto si chiama gelsomino india ed è un assoluto appunto di grandi florum ripeto non è per niente animalico non è per niente indolico è abbastanza pulito come gelsomino mi è piaciuto tantissimo poi abbiamo l'assoluta di rosa qui è una rosa centifoglia quindi bella rotonda dolce fruttata e subito dopo abbiamo il timbersilk e il pro camille il timbersilk è una nota legnosa un po' ambrata che probabilmente conoscerete già mentre il pro camille il pro camille restituisce quella sensazione olfattiva che trovate negli iononi tipo nel ionone alfa nel ionone beta ma anche nel legno di cedro e nell'iris quindi diciamo che può essere il sostituto dell'iris però prendetela con le pinze questa cosa perché non ha il profilo olfattivo dell'iris per niente tuttavia ricorda un po' lo ricorda un pochino e da un po' di polverosità ecco che abbinata al carvi rende appunto questa formula abbastanza asciutta subito dopo nel fondo troviamo il paciuli la vaniglia il vetiveraiti la romandolide il trimofix e l'etil maltolo dunque il trimofix aggiunge quel tocco ambrato che già dava il timbersilk quindi diciamo che fa da supporto essendo anche un pochino più persistente lo troviamo fino alla fine la vaniglia qui ovviamente è la protagonista nonostante sia la protagonista dopo quando vedrete i quantitativi rimarrete abbastanza sorpresi perché non ce n'è tantissima dentro eppure insieme al gelsomino e alla rosa sembra come dire amplifica il suo effetto sembra essercene di più in realtà non ce n'è tantissima ma è forse anche per questo motivo che la fragranza non resta non diventa stucchevole e noiosa l'etil maltolo voi lo sapete è una delle mie materie prime preferite in questo caso aumenta l'effetto polveroso dà un po' di dolcezza ovviamente insieme anche alla romandolide anche la romandolide dona tanta dolcezza alla fragranza ma soprattutto persistenza cioè tra etil maltolo romandolide e vaniglia parliamo di tre materie prime che hanno una pressione vapore molto bassa rendono il tutto molto persistente questi sono i quantitativi ve lo lascio qui ancora per un po' come potete vedere abbiamo un 30% di testa 12 e 50 di cuore 57 e 50 di fondo quindi ha un bel fondo molto presente preparatevi ad avere comunque una formula abbastanza persistente ho specificato come potete vedere la tipologia del gelsomino della rosa e qui di fianco come sempre ho messo la percentuale di diluizione delle materie prime mi sembra di aver detto tutto come vi avevo già accennato questo è un punto di partenza è una formula sicuramente migliorabile potete modificare i quantitativi potete aggiungere altre materie prime anzi fatelo e fatemi sapere quali sono i risultati soprattutto se siete riusciti a creare qualcosa di inaspettato e di appunto migliorativo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video